La Polizia di Stato ha chiuso all'Aquila una casa di prostituzione denunciando la proprietaria. Dopo una lunga e laboriosa attività investigativa, gli agenti della squadra mobile hanno denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna aquilana, B.A., proprietaria di un appartamento ubicato all'Aquila in zona Piazza d'Armi. Secondo quanto accertato dalle indagini dei poliziotti, coordinati dal dirigente Maurilio Grasso, la donna favoriva e sfruttava la prostituzione di numerose persone di nazionalità straniera, sia donne che transessuali, di nazionalità brasiliana, colombiana e venezuelana, che si avvicendavano all'interno del predetto appartamento concesso in locazione. Dall'attività investigativa è emerso infatti che l'abitazione, ora sottoposta al sequestro su disposizione del giudice delle indagini preliminari, Guendalina Buccella, come da richiesta del pubblico ministero Roberta Davoglio, veniva ceduta sistematicamente in affitto per brevi periodi, in maniera regolare, a giovani donne e trans di nazionalità straniera. Nel corso delle indagini, cominciate nel 2015, sono stati effettuati numerosi appostamenti, sono state raccolte testimonianze di clienti, cittadini e prostitute, acquisite immagini e annunci su internet, su siti del settore. Dalle ricostruzioni investigative si è potuto accertare che l'attività criminosa è stata svolta all'Aquila dal 2014 a oggi e che in questo lasso di tempo, ma anche negli otto anni precedenti, la proprietaria cedeva l'appartamento a giornate o settimanalmente e chiedeva, a titolo di canone, somme in contanti variabili da 250 euro fino a 720 euro mensili, tutto compreso luce, acqua e gas. Tutto questo senza sottoscrizione di alcun contratto di specie o talora con contratto riportante a un canone molto inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. I possessori protempore dell'immobile esercitavano stabilmente e continuativamente la prostituzione all'interno, dopo aver adescato i clienti online con prestazioni sessuali da 50 euro in su.